Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini, in A1 in direzione Bologna sul versante Emiliano per lavori 6 km di coda tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia e 5 km di coda tra Pian del Voglio e Sassomarconi, sempre sul versante Emiliano in direzione Roma per uno smontamento al km 212 e 100, 2 km di coda tra Sassomarconi e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola. Sulla FIPILI in direzione Firenze, 3 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli Est, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!